Per tre volte sono entrati a casa mia e assicuro che non è una bella cosa per nessuno, perché quando ti rovesciano la casa da sotto sopra non ci sono parole per descrivere quanto si sta male, perché ti toccano proprio le cose più personali. Tre furti in tre anni. È esasperata ma non rassegnata la signora Tiziana, che nella sua casa a San Biagio di Callalta è stata derubata di tutto, qualche monile ma anche generi alimentari, tanto da prendere una decisione netta. Ho lasciato tutta la casa così, con il portone rotto, con le finestre rotte, perché proprio ho detto mettere anche a posto oltre al danno, ho lasciato là. La casa è rovinata. Tiziana è una dei manifestanti che hanno preso parte al sit-in simbolico organizzato in Piazza Indipendenza a Treviso dall'Associazione Furti in Corso, realtà che da anni si occupa di fare rete sul tema dei reati contro il patrimonio, dalle segnalazioni al supporto alle istituzioni, gesti anche concreti come quello di Francesco, che qualche anno fa ha soccorso una donna aggredita a Roncade. Era sanguinante e nascosta su una sieppe. Quando mi ha visto è venuta fuori, dopodiché sono intervenuti gli agenti e la croce rossa. Lo stesso Francesco ha subito due furti in poco più di due anni. La prima volta, sempre alle 9 di mattina, la prima volta mi hanno tagliato la cassaforte e pulito tutto quello che c'era. Dopo ho messo l'allarme, bisogna metterlo prima. La seconda volta hanno tentato con l'allarme di sfondare una finestra e là si sono fatti male e sono scappati insomma, sempre di giorno. Tra i cartelloni c'è anche un grazie alle forze dell'ordine con richieste precise a istituzioni e politica. Noi siamo qui a chiedere certezza della pena prima di tutto, più sicurezza, più telecamere, più controlli nelle strade, posti fissi di controllo come c'erano molto tempo fa e più aiuto alle forze dell'ordine con mezzi e possibilità di fare qualcosa. La cosa principale è un incontro col prefetto che ho già chiesto diciamo formalmente via mail, come avevo fatto con il precedente Laganà e ho piacere a conoscerlo e è un onore per me conoscerlo. E in più un ascolto da parte delle istituzioni perché se non ci ascoltano e non ascoltano i cittadini, perché siamo quasi 20.000, non vorrei poi dover richiamare queste persone in piazza a ottobre in una manifestazione vera e propria. Per Demma c'è un rischio da evitare a ogni costo. Bisogna assolutamente evitare questo, quindi chi può farlo possono farlo le istituzioni, dandogli più certezza e più serenità. In quel caso eviteremo che la gente esca a farsi giustizia da soli e là si scatenerebbe un problema.